Bene, andiamo avanti con... Tutti voi avrete visto un film porno? Ma mai sentito? Perché voi non l'avete mai sentito con l'audio il film porno? Ma più o meno le cose sono queste, eh? E di più a tutte le donne che si lavano poco! Una buzza strada, questa e questa, no, si è fatta di te! Umbi, dei for you, e diciamo bene! Umbi, dei for you, e poi ci diciamo! Umbi, dei for you, e poi non vengono i bussù! La scena dopo a casa si rimette la scena! Stavolta ho deciso, nel punto sotto schiena! Se ancora un'ora io mi chiedo se Stati per te capito, qual è funzionato? Sto voluto video! Umbi, dei for you, e poi ci diciamo! Umbi, dei for you, e poi ci diciamo! Umbi, dei for you, e poi ci diciamo! La sostanza del video! Umbi, dei for you, e poi ci diciamo! 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 Umbi, dei for you, e poi ci diciamo!